Parliamo di Medardo, la mostra è allestita come si diceva alla Galleria d'Arte Moderna e nasce dalla collaborazione tra la Galleria d'Arte Moderna di Milano, che possiede delle opere di Medardo Rosso e il museo privato Medardo Rosso che si trova a Barzio. Sono non moltissime opere, però molto preziose, io vi farò vedere naturalmente le più importanti, ed altre e tra queste spicca la celebre Madame X che viene invece dalla Galleria d'Arte Moderna di Capesaro a Venezia. Medardo è un personaggio mitico, direi, perché in lui in un certo modo l'assenza diventa la vera poesia, cioè Medardo ha sconvolto i canoni della scultura abolendo il più possibile la materia, aggiungendo a farla consumare, quasi ardere come in un processo di purificazione e ha invece puntato sull'assenza della materia. Quindi lo vedremo per esempio su delle fotografie che colpiscono molto perché sono quasi fantasmi di opere d'arte. E allo stesso modo, come le sue opere, che spesso ci sono note attraverso fotografie e di cui non conosciamo più l'originale, anche Medardo, curiosamente, è un personaggio sfuggente. Doveva essere estremamente, diciamo, anche lui buon parlatore, esuberante, compagnone, ma curiosamente le notizie sulla sua infanzia, soprattutto sulla sua infanzia e la sua giovinezza, sono molto rare. Così, a differenza di quanto è successo per Segantini, la cui vita è stata romanzata, la vita di Medardo Rosso lascia tutta una serie di affascinanti zone d'ombra, di affascinanti lagune nere. Sappiamo certo che è nato nel 1858 a Torino, sappiamo che era di una classe sociale media, figlio di impiegati, sappiamo che viene a fare il soldato a Pavia e che è proprio a Pavia, secondo le testimonianze di alcuni che l'hanno conosciuto, che l'arte lo tocca, lo prende per il Bavero. Medardo è famoso anche per le sue fotografie, per le fotografie che ha scattato, bellissime come vedremo, proprio perché quasi a conferma della sua filosofia dell'arte, ha pensato che le sue opere se ne sarebbero andate nel tempo, erano nate per quello, perché di loro non restasse più nessuna impronta, ma le fotografie, con quella possibilità di replica, che oggi conosciamo così bene, forse avrebbero lasciato di quelle opere una vaghissima impronta. Medardo è stato dunque un buon fotografo e io compatibilmente con i materiali riproducibili ve lo farò vedere, ma non è stato molto fotografato e sì che è nato nel 1858 e è morto nel 1928, quindi ha abbondantemente attraversato la prima fase della fotografia, ma evidentemente preferiva stare dietro l'apparecchio fotografico che davanti. E quindi quelle che vi faccio vedere, un po' sgranate, sono le poche fotografie che si conoscono di lui. Vedremo che sicuramente deve aver avuto un carattere forte, volitivo e ribelle, tant'è che, credo lo abbiate letto, avrà un unico figlio che chiamerà Francesco e viva ribelle. È questo figlio prima abbandonato e poi ritrovato, come mi sembra abbastanza consueto per personaggi del calibro di Medardo, che prima vivono la paternità come un ingombro e poi con l'avanzare degli anni si sentono più vicini a coloro che dovranno continuare in qualche modo la loro esistenza. Proprio questo Francesco è quello che ha fondato questo museo di Barzio, dove peraltro Medardo aveva portato il figlio solo durante il periodo estivo, la famiglia Rosso non aveva radici a Barzio. Ma alla morte di Medardo, il figlio Francesco decide di raccogliere la gran quantità di materiali che era rimasto nella casa di Medardo Rosso qui in via Solferino a Milano e di portarla appunto a Barzio per poterla raccogliere ed esporre acquista un palazzo del Seicento, dove adesso appunto ha sede questo museo, un museo per la verità che ha le caratteristiche ancora di una proprietà privata e che quindi occorre contattare prima di andare a fare visita. Eccolo qui quindi il nostro Medardo con una mise negligee e con una barba che mostrano da subito il personaggio che non si mette certo in posa, ma che come vedete in questa foto sembra piuttosto alludere al rapporto con la terra e con la montagna attraverso la legna. Qui lo vedete in una rara foto di Atelier, questa volta niente barba ma, anzi pizzetto, ma baffoni. Qui siamo in Avenue de Batignolle a Parigi perché vedremo che Medardo Rosso ha trascorso la sua vita parzialmente in Italia e per buona parte a Parigi e proprio questo suo essere italiano a Parigi lo ha reso un personaggio ideologicamente scottante perché la Parigi degli anni 90 dell'Ottocento in cui arriva Medardo Rosso guarda gli italiani con un certo distacco, non direi proprio disprezzo. Non dobbiamo dimenticare che nel 1890 Parigi era il vertice della sua bellezza e della sua ricchezza. Se a tutt'oggi i ragazzi vanno a fare il viaggio di nozze a Parigi o vogliono andare a Natale a fotografare la tour Eiffel illuminata, è perché in quegli anni, gli anni che noi identifichiamo con la belle Epoque, Parigi splende di nuove luci. Mentre Milano è ancora tutto sommato una città che si gode le rendite della campagna che ha intorno. Quindi gli italiani che andavano a Parigi venivano visti come dei contadini che si inurbavano. E in particolare Medardo, così fiero, così orgoglioso di essere italiano, così mazziniano, benché una generazione dopo, viene guardato qualche volta con un certo sospetto. Si aggiunga che non pochi degli italiani che arrivavano a Parigi alla fine dell'Ottocento erano anarchici. Probabilmente lo stesso Medardo, questo renderà difficile il suo inserimento nel contesto artistico, che per la verità non è per fortuna solo mondano, ma che ha certamente anche, e oggi lo vediamo bene, un Cotè mondano. Nato, come vi dicevo, a Torino, arriva a Pavia e a Pavia, secondo alcune dichiarazioni dei suoi amici, italiani e francesi, si sofferma in particolare sulle facciate delle chiese romaniche e guarda con attenzione i rilievi che si trovano sulla splendida facciata della Basilica di San Michele. La Basilica di San Michele a Pavia ha questa straordinaria facciata in arenaria, una pietra dolce, morbida, che i secoli, la facciata è della fine dell'undicesimo secolo, hanno quasi disciolto nel tempo. Così, nonostante i restauri che si sono succeduti, riuscire a capire bene le forme di questi animali fantastici, di questi esseri mitologici, è molto difficile. Possiamo immaginarci un giovane medardo, costretto ad un servizio militare che certamente non vorrebbe fare, mentre alza gli occhi su queste forme che svaniscono, perché vedremo che proprio questo verbo, svanire, dissolversi, è la parte, direi, più accattivante, più affascinante della produzione di medardo. Girando per le chiese pavesi, in questa pavia che possiamo immaginare piena di nebbia e ancora dominata dall'università e dagli studenti, vede anche naturalmente opere di arte antica. E in alcuni appunti che scrive in un brogliaccio, si domanda, ma come mai i pittori antichi mettono queste figure di santi ritagliati su dei paesaggi che non c'entrano nulla? Una volta eliminato il fondo oro, che era stato così importante per i secoli del primo medioevo, i pittori del 400 hanno cominciato a incidere quasi, con un disegno secco, asciutto, le figure su dei fondi che non hanno alcun rapporto con i santi. I fondi certo sono gradevoli, sono bei paesaggi, in questo caso un perugino, sono delle belle colline, ma che cos'hanno a che spartire con queste tre figure che se ne stanno lì in una sacra conversazione? E comincia quindi uno dei rovelli di Medardo, forse il rovello principe. Come si fa a collegare veramente la figura al paesaggio? Perché in realtà, e io cerco di spiegarvele in maniera semplice, spero così di essere chiara, nessuno di noi può vedere una figura isolata da un contesto spaziale. Se voi domani ripenserete a me, non mi ripenserete in un prato o all'aria aperta, ma vi ricorderete della mia faccia così com'è in questo momento, illuminata con queste luci. E mentre mi guardate vedete il mio contrasto, il contrasto del mio volto con il fondo che ho alle spalle. Nessuna percezione umana può essere isolata, congelata. E proprio questo, come vedremo, sarà l'elemento essenziale, quindi, che Medardo cercherà di portare nell'arte del suo tempo. Lasciata a Pavia, Medardo viene a Milano. Ha fatto qualche lezione presso un pittore, un artista, decisamente di secondo piano a Pavia. Viene a Milano nel 1882 e, viste le sue aspirazioni, si iscrive all'Accademia di Brera. Un disastro. Brera ha, direi, ma penso che questo succeda a tutte le accademie del mondo, un notevole elenco di persone geniali che si sono iscritte all'Accademia e che sono state respinte come non idonee alla carriera artistica. Lo abbiamo visto anche con Segantini, con Medardo il caso è ancora più clamoroso. Ma devo dire che l'epoca, che è pressoché la medesima di Segantini, i due sono sostanzialmente coetanei, è un'epoca in cui l'Accademia conosce queste bordate di artisti e allievi ribelli che si rifiutano di seguire corsi considerati ormai vecchi e stantii, soprattutto per quanto riguarda la scultura, perché la scultura in quegli anni era rappresentata, la scultura ufficiale, da Pietro Magni, uno scultore che il grande pubblico non conosce più perché così vanno le cose dell'uomo. Tanto successo in qualche momento della propria vita e poi ci si dimentica. E così Pietro Magni all'epoca era molto amato, è l'autore di questa lettrice, dalla foto capite che è un autore impeccabile dal punto di vista tecnico. Guardate con che abilità riesce a restituire le cuciture dell'abito della ragazza, oppure lo chignon. Ma vedete che questa statua, che si trova anche questa alla Galleria d'Arte Moderna, dà un'invincibile sensazione di gelo. È perfetta, ma di una perfezione che sembra congelare la vita, bloccarla. e d'altra parte dove c'è la vita lì c'è calore e c'è movimento. E le statue in marmo, ahimè, non sono né calde né in movimento. Pietro Magni tuttavia riscontra, ha un grandissimo successo, soprattutto con un'immagine che tutti noi vediamo direi giornalmente a seconda delle nostre abitudini cittadine, delle nostre flanerie milanesi, delle nostre passeggiate. Questo è naturalmente il Leonardo da Vinci di Pietro Magni in Piazza della Scala. Così presente nella città, con i quattro allievi che stanno alla base del monumento, che Giuseppe Rovani, scritturale alla biblioteca di Brera e appartenente a quel movimento di cui tra breve vi parlerò la scapigliatura, lo ha battezzato un liter in quater. Un liter, perché Leonardo è la bottiglia, in quater, perché i quattro aiutanti fanno appunto funzione di quartini. Ma Pietro Magni era l'ufficiale, rappresentava l'importanza della scultura. E vi devo anche dire, sebbene l'osservazione possa essere banale, va sempre ripetuta quando si parla di scultura, che se intraprendere la via dell'arte è coraggioso, e lo è stato in tutti i tempi, intraprendere la via della scultura lo è infinite volte di più. Perché la scultura richiede materiali costosi, perché i committenti della scultura quali possono essere? Certo non il bravo borghese che vuole avere un monumento nel proprio giardino. La scultura ha pochissimi committenti e in genere sono committenti pubblici. E poi c'è l'eccezione, ma un'eccezione che fa fare a tutti gli scongiuri, che è evidentemente la scultura funeraria. Quindi, accanto a Pietro Magni, osannato per la sua superba tecnica, anche qui, sebbene lo vediamo tante volte, forse vale la pena notare come abbia rappresentato la fodera dell'abito di Leonardo con tutte le sue piegoline ben in vista. E intanto, però, contro questa pittura ufficiale e scultura ufficiale, si muove a Milano una pattuglia di deliziosi ribelli. Dico deliziosi perché in realtà sono stati fondamentalmente dei buoni ragazzi e dico ragazzi perché invecchiando certamente hanno rinunciato alla loro vocazione scandalistica. Sono gli scapigliati. Scapigliati, ve lo ricordo, ne parlavamo non molto tempo fa, sono l'equivalente dei bohemian parigini. La storia vale la pena di essere ripetuta. 1848 esce a Parigi un libro intitolato Scene dalla vita di Bohème, autore Henri Murgé. Il libretto è un libro piccolino, vi si raccontano storie assolutamente piccole, modeste. Amori di sartine e di studenti, tutti sempre senza soldi. Amori passati furtivamente nelle piccole gargotte di periferia con la brevità e la tenerezza e l'idealismo della giovinezza. Il libro, che non è un gran libro, bisogna dire la verità, ebbe un enorme successo. La vita di Bohème era la vita zingaresca perché in francese Bohème, che vuol dire bohemia, fa riferimento agli zingari. E quindi Scene della vita di Bohème vuol dire Scene della vita zingaresca, di quegli studenti e di quelle sartine che campando alla giornata conducono in fondo una vita libera ma anche piena di pericoli come quella degli zingari. Gli editori popolari di tutta Europa saltano immediatamente addosso all'osso perché questo libro faceva piangere tutti, fa piangere tutti ed era appetibilissimo per i vari editori come i Treves a Milano che volevano conquistarsi un pubblico appunto piccolo ma pieno di entusiasmo. E così bisognava tradurre questo termine Bohème. ci pensa un avvocato milanese che si chiama Mario Righetti ma che si farà chiamare come nom de plume Cletto Arrighi che traduce appunto le scene della vita di Bohème con il titolo Scapigliatura. Questa scapigliatura indica evidentemente quello che Bohème vuol dire in francese capelli lunghi barbe pochi soldi tanti ideali insomma il Rodolfo della Bohème pucciniana e gli scapigliati erano come vi dicevo in realtà dei bon enfant quindi non hanno fatto gravi rivoluzioni non hanno ammazzato nessuno però erano un po' scontenti del neonato regno Sabaudo tutto sommato si aspettavano di più dall'Italia Unita questo precipitare degli ideali che erano stati di Mazzini negli uffici con la burocrazia con tante carte con tante cartelle li aveva delusi e li aveva portati a rifugiarsi nel vino e negli amorazzi la scapigliatura milanese ha sicuramente dei grandi protagonisti siccome è una piccola parte della vita di Medardo io ve ne faccio cenno sapendo che è un argomento molto importante che tocca tutte le arti perché uno degli aspetti più importanti di questo movimento è proprio l'interdisciplinarietà cioè l'aver pensato che non esiste pittura senza la possibilità di una traduzione in musica e che la musica può essere in qualche modo a sua volta tradotta in parole questo concetto delle corrispondance baudeleriane è un concetto che passa attraverso la scapigliatura e arriverà fino al simbolismo fino a Verlaine e oltre ma gli scapigliati lavorando in un'italietta ancora così piccola e così fondamentalmente contadina e piccolo borghese sfondarono veramente una porta furono loro i primi a dire appunto là dove c'è musica c'è anche poesia e i colori sono le note per il nostro occhio tra questi scapigliati c'è tranquillo Cremona aveva anche lui lo studio qui in via Solferino ha dipinto alcuni quadri molto importanti e soprattutto direi che è stato molto interessante dal punto di vista tecnico pensate che siamo negli anni 70 dell'800 e quindi precoci non siamo ancora nel tardo impressionismo ed è curioso che dei pittori che appunto vivevano in uno stato ancora così arretrato rispetto a Londra rispetto a Parigi siano arrivati a delle soluzioni formali così innovative questa attrazione che vedete qui vi fa vedere la tipica pittura di Cremona è come se le due figure il giovane uomo e la giovane donna siano visibili attraverso un vetro fumé come se l'atmosfera di di attrazione il senso di morbidezza e di tenerezza sciogliesse i contorni riscaldasse i colori e tutto questo tranquillo Cremona lo ottiene rodendo quasi erodendo i contorni e dando questa sensazione appunto di di flù il termine più più corretto è un'accentuazione dello sfumato come mai allora Tranquillo Cremona non ha avuto la popolarità dei coevi pittori francesi ebbè i soggetti i soggetti che sicuramente piacciono molto a una larga fetta di pubblico ma che sicuramente non sono dei soggetti internazionali sono dei soggetti tardoromantici la bella giovinetta e il bel giovine momenti pensate anche alla famosissimo dipinto L'Edera di cui è protagonista il musicista Alfredo Catalani insomma soggetti tardoromantici in un mondo che invece e lo vedremo chiedeva soprattutto il vero e non si può ridurre la realtà al battito alla palpitazione dei cuori quando ci si innamora certo il palpitare dei cuori è importantissimo ma la realtà è molto più ricca e sfaccettata accanto a Tranquillo Cremona c'è Daniele Ranzoni anche lui pittore di grande qualità di grande importanza anche lui attivo nella Milano della scapigliatura i due si differenziano perché Tranquillo Cremona ha in genere queste tonalità calde il suo pennello vibra soprattutto sui rossi e sui gialli paglierini mentre Ranzoni è un grande poeta dei colori freddi azzurri grigi cinerini in particolare la gamma dei celesti questa che vedete è una delle fanciulle ranzoniane Ranzoni ha avuto una vita piuttosto breve e tormentata sapete che si innamora infatti di quella Ada Trubetzkoi è sposata a un principe russo che lo accoglie nella sua villa sul lago maggiore ma naturalmente essendo l'amore un amore adulterino non è destinato a un lungo futuro Ranzoni lavora per le sorelle vercesi di Giffa che commissioneranno e lo vedremo a Medardo Rosso alcune opere anche questo è Daniele Ranzoni e questo appunto è un ritratto di collezione privata perché la scarsa conoscenza che il pubblico ha di questa pittura è anche dovuta al fatto che molte di queste opere sono ancora in collezione privata d'altra parte tenersi in casa un Tiziano un Michelangelo è abbastanza difficile mentre tenersi in casa queste opere che tutto sommato hanno ancora questo profumo di generazioni non troppo remote è un comprensibile fonte di piacere quindi signorina Vercesi che commissionerà opere a Medardo Rosso ma vi ho citato i Trubetzkoi famiglia russa che si trasferisce sul Lago Maggiore tra i Trubetzkoi è Paolo Trubetzkoi anche lui scultore e scultore scapigliato quindi adesso vi faccio vedere alcune delle personalità della scapigliatura per farvi capire in che contesto Medardo più giovane di tutti loro si viene ad inserire abbiamo visto i contorni dei dipinti di Tranquillo Cremona sembrano appunto divorare mangiare la limitazione che viene data dal disegno il disegno che circoscrive la figura la pittura di Tranquillo Cremone di Ranzoni lo abbiamo visto con questo effetto vetro fumé cerca di ammorbidire la durezza del disegno ma come ottenere tutto questo in scultura la scultura che è per eccellenza invece definizione di spazi una tridimensionalità esibita allora alcuni scultori in particolare Trubezcoi e Giuseppe Grandi che è l'autore del monumento alle 5 giornate qui a Milano tentano una via della scultura nuova una scultura prima di tutto non di marmo e poi una scultura che abbia la freschezza la rapidità di tocco di un bozzetto anche nel caso di Trubezcoi però il soggetto è un soggetto decisamente sentimentale tardo romantico e in qualche modo quindi la rivoluzione tecnica che gli scapigliati compiono viene inficiata dalla loro fedeltà ad una iconografia ormai vecchiotta superata anche qui lo vedete in questo brongetto sempre di Trubezcoi e qui siamo arrivati invece a una delle prime opere di Medardo per Medardo vale quello che vi ho raccontato tempo fa per Auguste Rodin ma quello che vi ho raccontato per Auguste Rodin vale anche per molti scultori dell'Ottocento lo scultore infatti modella in un materiale refattario in genere in creta quello che vuole realizzare e poi da questa creta può trarre bronzi attraverso il sistema della cera persa gessi terracotte questo ha per certi aspetti danneggiato la fama di artisti come Medardo Rosso e come Rodin perché se un bronzo come questo che vedete cade nelle mani di una persona di pochi scrupoli questa persona può rincamiciare rivestire il bronzo con un nuovo guscio di materiale refattario rifare la fusione in bronzo e ottenere delle copie è chiaro che questo procedimento non vi fa ottenere delle opere belle come la prima fusione dell'artista ed è chiaro anche che se io sono così disgraziato da operare in questo modo danneggio l'opera originale però purtroppo i bronzetti dell'ottocento sono stati ampiamente riediti e d'altra parte lo stesso Medardo Rosso come vedremo ha dato di alcuni soggetti più versioni una versione in bronzo una versione in cera una versione in gesso questa è una delle sue prime opere una delle sue opere milanesi siamo quindi tra il 1884 e il 1889 e questo è un po' un come posso dire un malfattore di piccola taglia in milanese il titolo suona L-O-C-C-H scritto L-O-C-C-H io credo che dall'epoca all'epoca si pronunciasse L-O-C-C-H ma non lo so non ho potuto verificare credo si tratti di un patois ambrosiano lontano ormai da noi comunque diciamo quei delinquentelli di quartiere un po' un po' vanitosi e vedete già che il soggetto rispetto al soggetto di Cremona e di Ranzoni è un soggetto diverso Medardo cerca subito di dare alle proprie figure delle caratteristiche di carattere più realistico meno da ballata tardoromantica più vere però attenzione anche qui il verismo del primo Medardo è un verismo che possiamo definire bozzettistico perché esistono tanti tipi di verismo un verismo che denuncia severamente la situazione di alcune classi sociali Courbet per esempio che dice chiaramente attraverso la pittura guardate come uomini uguali a voi vengono trattati e poi c'è un verismo bozzettistico autori che non leggiamo quasi più come Matilde Serrao per esempio certo Renato Fucini un verismo un po' patetico che punta sulla macchietta sostanzialmente ecco questo è il verismo del Medardo Rosso milanese certo dal punto di vista tecnico anche qui difficilissima la fusione perché più scabrosa è la superficie più ottenere il bronzo che viene appunto colato tra le due pareti di materiale refrattario a cera persa quindi sapete che io faccio il bozzetto poi ci metto sopra della cera ci metto sopra un altro strato di materiale refrattario buco tutto metto in forno i due strati di materiale refrattario di solito creta ma potrebbe essere anche terracotta si cuociono e si induriscono la cera che c'è di mezzo si scioglie e scende dal buco che è stato fatto appositamente si crea così un intercapedine tra le due diciamo una camera d'aria tra i due strati di materiale refrattario e in questa camera d'aria io posso colare del bronzo certo che più questo bronzo è scabro ruvido e ne vedrete delle superfici incredibili tanto più difficile è appunto la fusione il bozzettismo del primo del primo medardo è sicuramente collegato alla popolarità che ebbero negli anni di medardo i presepi napoletani non dimentichiamo che la fotografia sta avendo una certa diffusione si cominciano a fotografare le opere napoletane del seicento e chi non conosce il realismo di certe figure seicentesche inserite nei teatri barocchi partenopei questo è un esempio ma ne potremmo fare tanti altri eppure nei presepi napoletani certamente non c'è una denuncia di tipo sociale non c'è lotta di classe insomma i vecchi i bambini i caffoni e i nobili si trovano tutti intorno alla grotta di Betlemme e una delle fonti di questo bozzettismo appunto di rosso è certamente uno sguardo dato a questa grande tradizione popolare e d'altra parte a Napoli era nato un sì un grande scultore che aveva lasciato Napoli già all'epoca per andare a Parigi e che si chiamava Vincenzo Gemito anche lui conosciuto ma il cui mercato è stato come vi dicevo un po' sfibrato dalla presenza di cattive copie di brutte repliche eccetera una delle sue immagini più famose è questo pescatorello allora Gemito compie un'operazione che sarà utile a Medardo e che mi è molto difficile mostrarvi attraverso le immagini perché ve la devo raccontare e voi cercate di capire quanto provo a dirvi Gemito aveva a disposizione il museo archeologico di Napoli che sul finire dell'ottocento era un immenso cassone dove i turisti andavano a vedere quello che era esposto ma i napoletani potevano entrare nei corridoi nascondersi vedere i depositi come è sempre successo diciamo non solo a Napoli ma anche altrove a Napoli forse in particolar misura così i figli dei custodi di Pompei riescono a vedere parti della Pompei romana dove i turisti non riescono ad arrivare e Gemito vide con ogni probabilità questi meravigliosi bronzetti che seppur in piccola misura vista la eruzione vulcanica Pompei ed Ercolano restituivano e i bronzetti ellenistici a cui verrà dedicata una mostra tra poco a Firenze e con cui aprirà la stagione espositiva la fondazione Prada qui a Milano a maggio sono un tesoro straordinario perché i bronzetti ellenistici hanno dato ellenistica vuol dire dopo il quarto secolo avanti Cristo dopo la morte di Alessandro Magno hanno cambiato la storia dell'arte antica prima c'era Fidia c'erano i grandi della scultura con il quarto secolo cominciano in scultura come in poesia gli idilli quindi piccole rappresentazioni di un'umanità piccola e individualizzata caratterizzata e Vincenzo Gemito prende questo pescatorello che potrebbe tranquillamente essere una statuetta ellenistica visto che il piccolo nudo è sostanzialmente senza tempo e sempre di Gemito è questa figura di nuovo attenzione tra sospesa tra realismo e bozzettismo quando arriverà a Parigi Gemito come d'altra parte il napoletano Antonio Mancini rappresenteranno l'Italia con questa dimensione tipica del Grand Tour quindi pescatori scugnizi venditrici di pesce che entreranno nell'immaginario dell'Europa come un'immagine del nostro paese e questi sono quelli che ho trovato ma ripeto la mostra della fondazione Prada sarà curata da Salvatore Settis che è un grandissimo esperto in questo campo e altrettanto importante sarà la mostra che si aprirà tra poco a Palaccio Strozi a Firenze dedicata appunto a questi meravigliosi bronzetti ellenistici sono preziosi venivano fatti con lo stampo erano spesso degli ex voto e si lasciano alle spalle anche qui la grandiosità della scultura dell'età periclea per andare verso questa così suggestiva dimensione miniaturistica guardate questa danzatrice ma ce ne sono di bellissimi mentre Medardo segue questa pista un altro scultore di cui questa è l'opera più famosa e si chiama Butti segue decisamente la linea socialista perché il nostro Medardo un po' come d'altra parte Segantini è immerso in quello che io chiamo le bouillon fin des siècles cioè quel brodo ideologico della fine dell'Ottocento in cui tutto sommato socialismo cattolicesimo nicianesimo si davano la mano difficile distinguerli certamente il Butti che qui vedete nel famoso monumento della tomba besanzanica che si trova al cimitero monumentale di Milano e che in questo momento è in restauro il Butti fu appunto decisamente socialista e quindi come vedete sulla tomba rappresenta i buoi e il lavoro dell'uomo e questa grande figura di pietra che domina le figure in bronzo che deve appunto rappresentare la necessità del lavoro invece il nostro Medardo Rosso frequenta un personaggio anche qui scialbato dallo scorrere degli anni che si chiamava Felice Cameroni Felice Cameroni traduce in italiano Zola e Felice Cameroni sarà uno dei primi ad incoraggiare Medardo nelle sue prime opere questa è una delle opere che si trova alla mostra di Delgam è una vecchia con ogni probabilità Medardo ha visto le opere di Angelo Morbelli il pittore divisionista che lo sapete ha fatto questa sorta di cappella sistina del più albergo Trivulzio rappresentando i vecchi e le loro tristezze nell'abbandono della bagina ma è vero comunque che Medardo segue quell'idea di verismo di cui vi facevo cenno poco fa la vecchia potrebbe essere tranquillamente uscita da un idilio di Teocrito o di Mosco cioè un idilio ellenistico una mezzana certamente come se ne trovano appunto nella letteratura alessandrina quindi ellenistica quando di questa testa esistono diverse versioni con questo riso sdentato e di nuovo con questa attenzione di Medardo al giocare dell'ombra e della luce che diventerà sempre di più la sua il suo tarlo la sua la sua aspirazione assoluta e in una delle versioni che vedrete anche alla galleria d'arte moderna sul basamento è scritto Margherita o Margherita perché con una drammatica Vanitas Medardo Rosso chiama Margherita questa vecchia penosamente elaborata dal tempo Margherita era la fidanzata di Faust la bellissima Gretchen e Medardo ci vuol dire appunto come Vion nella famosa ballata delle dame del tempo che fu che la vecchiaia e quindi il solco del tempo non perdona nessuno qui ne vedete delle altre versioni vi dico subito che i libri su Medardo costano parecchio perché Medardo è il paradiso dei scultori e scusate dei fotografi ci sono e ogni tanto lo vedrete anche nel mio incontro delle fotografie bellissime di Medardo perché pare che Medardo abbia scolpito pensando appunto a come fotografare la sua stessa opera tanto che lo vedremo lui stesso fotografa le proprie opere lasciando poi le proprie opere al loro destino ma puntando sulla bellezza delle sue fotografie quindi qui per esempio vedete una delle fotografie della vecchia apparsa sulla rivista Emporium diretta all'epoca da Vittorio Pica e adesso un escursus che vi parrà un po' strano nell'anno nel 1884 quando appunto intanto Medardo lavora a Milano Camillo Boito sta occupandosi dell'altare del Santo a Padova e sono anche in corso le celebrazioni donatelliane quindi l'Italia finalmente unita deve trovarsi una storia dell'arte che vada bene per tutta l'Italia quindi che metta insieme culture così diverse come appunto la Sicilia e la Lombardia e punta quindi su queste celebrazioni le celebrazioni dei grandi si celebra quindi Donatello e per l'occasione viene chiesto all'architetto Camillo Boito autore della novella Senso e fratello di Arrigo Boito autore di quel Mephistofele autore dell'opera Mephistofele data alla scala da cui forse verrebbe anche l'idea di Medardo Rosso di chiamare la vecchia Margherita Camillo Boito riorganizza l'altare di Donatello per noi oggi è un po' penoso nel senso che le meraviglie di Donatello all'altare del Santo a Padova ci sembrano combattere con l'inevitabile decaduta di qualità dell'Ottocento però questa passione per Donatello portò Medardo Rosso a studiare i restauri che Camillo fratello del suo amico Arrigo stava conducendo e a studiare quindi Donatello soprattutto nel periodo Padovano e a trarre quindi ispirazione da quelle che sono alcuni dei capolavori della scultura di tutti i tempi e in particolare quindi della scultura donatelliana questo che vedete è uno dei miracoli di Sant'Antonio di Donatello nell'altare del Santo a Padova perché dovette colpire l'immaginazione e il desiderio di fare di Medardo perché Donatello usa questa tecnica che si chiama schiacciato o come si diceva anticamente schiacciato con un aggetto cioè con una sporgenza di nemmeno un centimetro Donatello riesce a darvi la sensazione di una grande profondità e schiera queste figure in modo che voi le vediate colpite dalla luce quasi si trattasse di qualcosa a metà tra la pittura e la scultura e questo è uno degli elementi direi decisivi che portano anche Medardo a guardare a una nuova tecnica scultorea non più una scultura intorno a cui si gira come vedremo ma una scultura pittorica una sorta di terra di mezzo tra la scultura e la pittura e la pittura appunto anche questa è opera del periodo milanese ha un titolo squisitamente cameroniano carne altrui vuol dire che questa figura che vedete è la figura di una prostituta che si rinchiude in se stessa in un momento di tristezza quindi non il corpo mercificato ed esibito di Olympia dell'Olympia di Manet ma una sorta di vergogna del proprio io che si manifesta lo vedete simbolicamente in questa in questa forma che come se la testa cercasse di nascondere se stessa e tornare in una sorta di grembo originario come se la prostituta vergognandosi della propria vita volesse ritornare nell'utero materno e intanto vi dicevo guardate come scivola la luce perché le sculture di Medardo sono meravigliose secondo me perché a differenza delle altre sculture che richiedono una luce fissa la luce nelle sculture di Medardo deve essere una luce che si muove una luce che palpita una luce che trema una luce naturale o una luce di candela la luce insomma come la conosciamo la luce come la viviamo tutti i giorni che cambia quando camminiamo per la strada che si accende o si spegne quando parliamo con qualcuno e la luce si muove insomma lo vedrete è questo tema della luce quello che rende un personaggio tutto sommato un po' atipico come Medardo un grande personaggio questa è una delle sue opere più amate e più viste anche soprattutto qui a Milano perché questa è la Portinaia sì la Portinaia che è un che è protagonista di tanti racconti della fine dell'Ottocento ce la immaginiamo i francesi direbbero Grommelant sapete quel finto sonno delle persone anziane che stanno ce la immaginiamo su una sediolina impagliata nella sua portineria che sembra appunto sempre dormicchiare e che in realtà riesce a sapere tutto di quello che accade nel condominio e guardate come con una freschezza una velocità di tratti così straordinaria Medardo riesce a dirvi tutto la posizione della testa il mento in avanti ed usa appunto la famosa cera ora sulla cera io ritornerò perché ci sono opere straordinarie di Medardo in cera però la cera è forse la grande invenzione di Medardo perché pensate al nostro Pietro Magni ve l'ho mostrato poco fa la scultura prima di tutto resiste resiste nel tempo ecco perché sulle tombe mettiamo delle belle sculture di marmo perché possa perché piova perché venga il vento perché grandini le sculture staranno lì è l'ambizione dell'uomo l'eternità ma proprio per questo sembra dirci Medardo la scultura è supponente superba anziché scorrere nel tempo cerca di opporsi al tempo che non si ferma e invece la cera la cera è calda la cera viene dalle api quindi è animale viene viene da un mondo vivo è un dono delle api e la cera non è di quel bianco levigato che riflette la luce come il marmo ma la cera è giallastra o qualche volta rosata e assorbe la luce e poi è fragile naturalmente non si può chiedere a sculture come queste di girarci intorno perché e lo vedremo Medardo usa una base di gesso stende su questa base la cera calda non deve essere troppo fredda perché altrimenti non si può più modellare non deve essere troppo calda perché altrimenti il contatto fondamentale tra le dita i polpastrelli delle dita e la cera diventa impossibile deve essere il momento giusto e bisogna essere rapidissimi e intanto e intanto a Parigi in quella Parigi che aspetta Medardo uno spirito abbastanza affine a Medardo rosso cioè lo scorbutico Edgar Degas oltre alle famose ballerine in pastello in olio eccetera fa questa terribile e bellissima ballerina di 14 anni ora provate a pensare se voi chiudete gli occhi e immaginate una ballerina di 14 anni vi immaginate una bella ragazzina come quelle che ci propone la pubblicità Rosea la Renoir e invece Degas fa volutamente una piccola scimmia bruttina e direi anche con questa quest'aria di sfida che hanno spesso le piccole adolescenti ma la vera novità consiste nell'essere questa scultura polimaterica proprio come le sculture dei presepi napoletani quindi Degas mette il corpetto fa il corpetto della ballerina con la tela poi ci stende sopra della cera e poi ci mette dei bottoni veri e il gonnellino allo stesso modo è di stoffa vera anche Medardo non potrà farlo o comunque le opere che ci sono rimaste di lui non hanno conservato questi dettagli ma aveva fatto un fumatore con una pipa vera in bocca per cercare di infrangere questo diaframma tra ciò che l'arte rappresenta e ciò che la realtà è altro scultore francese che sicuramente Medardo vede sia attraverso le fotografie sia poi attraverso la conoscenza diretta è un artista fantastico ahimè poco conosciuto che è Honoré Dommier Dommier è il famoso caricaturista quello che ha preso in giro una volta per tutte avvocati e giudici ma oltre a essere un grande caricaturista è stato anche un buon scultore e le sue sculture sono estremamente prossime a quelle di Medardo anche qui tutte giocate su questo chiaroscuro risentito su questo su queste acciaccature ammaccature proprio che rendono nel caso di Dommier ancora più evidenti efficaci i volti che vengono rappresentati ecco qui anche questo è Dommier però Dommier usa il bronzo non usa la cera e le sue sculture sono esclusivamente caricaturali non sono non sono figure come quelle che vedremo ecco questa invece è una fotografia fatta da Medardo Rosso a un'opera di Medardo che non c'è più ecco perché vi dicevo forse una delle cose che rendono così affascinante Medardo è l'assenza l'opera che non c'è e di quest'opera noi conosciamo qualcosa anche attraverso le lettere di Medardo l'opera si chiamava già in francese perché gli scapigliati parlavano spesso francese Impression d'interieur d'omnibus quindi impressione di un interno di omnibus divertente perché non sappiamo bene quali fossero le dimensioni ma sapete che l'omnibus era appunto la carrozza per tutti omnibus vuol dire proprio dedicata a tutti e non sappiamo come dovesse essere il contenitore ma insomma il nostro Medardo fa uno scenario dietro che deve rappresentare il grande finestrino poi l'umanità mista davanti guardate se non sembra di entrare in una delle nostre dei nostri autobus mancano solo telefonini e cuffie c'è la signora un po' irrigidita vedete che non vorrebbe stare vicino all'ubriaco perché l'ivrogna l'ubriacone si piega e si addormenta e lei come vedete se ne sta impettita come dire proprio a me doveva toccare di sedermi qui dall'altra c'è la vecchia contadina poi c'è una figura più abbondante davanti a tutti una coperta evidentemente doveva proteggere anche la cera e la fotografia fatta su lastra è appunto una fotografia di Medardo l'opera è andata perduta ma appunto è affascinante riuscire a ricostruire il catalogo di questo artista che sembra aver fatto di tutto per sfuggire alla documentazione a questo punto 1889 lui arriva a Parigi Parigi diventerà la sua seconda città farà avanti e indietro tra Milano e Parigi intanto ha lasciato la moglie e si dà alla vita bohemian è il caso di dirlo a Parigi a Parigi entra in un coté intellettuale fatto di artisti soprattutto Degas ma anche scrittori come Paul Alexi che è lo scrittore che qui vedete insieme ad Emile Zola rappresentato in quest'opera Paul Alexi è stato uno scrittore realista non ha scritto delle opere indimenticabili ma è stato importante per Rosso perché lo ha introdotto in una Parigi dove ripeto non era facile acclimatarsi i precedenti italiani Denitis e Zandomeneghi avevano dovuto sudare Denitis c'era addirittura morto per farsi accettare dalla capitale francese ed è nel primo periodo che francese che lui fa questa famosa etas aurea che sarebbe poi una maternità età aurea vuol dire l'età aurea e chiaramente l'infanzia il soggetto qui parrebbe un po' più scapigliato cioè sentimentale d'altra parte Medardo doveva pur campare poveretto quindi doveva fare anche dei soggetti che fossero accettati dal nuovo pubblico e questa idea della guancia guancia tra mamma e bambino ha sempre avuto un enorme successo presso il pubblico che voleva comperarsi dei soprammobili al di là del soggetto direi che le cose interessanti da guardare sono la composizione come riuscire a far star su una statua con due figure in una linea completamente sbieca come vedete senza alcun punto di centralità e proprio questo abbandonarsi reclinarsi delle figure deve dare la sensazione del reclinarsi della madre che stringe a sé il bambino e poi meravigliosa la sintesi con cui Medardo rappresenta il volto del bambino con i due fori degli occhi e la grande cavità come un uccellino che spalanca il becco per chiedere il cibo della bocca guardate questa cera calda perché ogni tipo di cera di Medardo è diversa ecco questa è la fusione in bronzo vi dicevo in realtà ogni fusione ed ogni cera ha delle caratteristiche diverse trova il nostro Medardo alcuni committenti importanti anche se per la verità all'inizio fa veramente la fame e finisce addirittura in ospedale per denutrizione ma tra i committenti c'è questo Henri Rouard che qui vedete rappresentato da Degas e di cui Medardo dà la sua versione che adesso vi faccio vedere e di cui in mostra a Milano sono esposte ben tre versioni eccolo qua quindi laddove Degas rappresenta le grand bourgeois in qualche modo col suo chapeau haute forme e con la sensazione anche Degama va molto la fotografia quindi con la sensazione del passaggio invece Medardo celebra in qualche modo la come dire la la finezza dello spirito l'arguzia di Rouard con questa piccola testa montata su questo grande corpo qualcuno ha parlato anche di similitudini con la pittura di El Greco ecco qui questa è una delle versioni esposte appunto alla galleria d'arte moderna vedete come sia fondamentale la luce perché in base a come io illumino la statua posso dare la sensazione di piattezza oppure di una superficie quasi lunare tutta piena di gore di bitorzoli e questo doveva divertire molto Medardo che appunto avrà giocato con le candele con le lampade per ottenere degli effetti qualche volta bidimensionali e qualche volta invece di grande materia questo è l'enfant malade il bambino malato ed è probabilmente nato dalla ispirazione che Medardo trae dal suo soggiorno in ospedale finisce in ospedale per denutrizione e scolpisce questo bambino malato già direi quasi surreale perché guardate cosa riesce a fare del passaggio delle orbite intorno all'occhio quindi l'occhio gonfio e guardate come si ha questa sensazione si abbia questa sensazione quasi di una evocazione dall'aldilà d'altra parte sono gli anni del tardo impressionismo a Parigi Montmartre è tutta in movimento e sono gli anni di Toulouse-Lautrec di Gauguin ma anche di Odilon-Rodon e di Gustave Moreau ecco guardate questa è un'altra foto blanc su blanc del bambino malato giocava con i sali quindi con i sali d'argento per ottenere questi effetti pittorici straordinari questa appunto è una delle sue immagini delle sue fotografie e riesce a fermarsi come vi dicevo grazie all'appoggio di alcuni mercanti e di alcuni intellettuali il principale è Roar e ve l'ho detto poi ha avuto contatti con la famiglia Rothschild anche se del famoso enfant juif cioè del famoso bambino ebreo che tra poco vi mostrerò non si è certi che rappresenti un rampollo dei Rothschild ecco qua un'altra versione vedete come la materia sia divorata dalla luce e possa essere di volta in volta trasparente oppure coprente possa essere possa dare questa sensazione di fragilità e Medardo dice una cosa secondo me straordinaria e che oggi con il mondo in cui viviamo con le luci in cui viviamo è ancora più vera Medardo dice gli uomini sono in realtà degli scherzi di luce e la materia uno scherzo di luce ma attenzione la luce è anche energia e questo è quello che vedremo proseguendo altro soggetto le rieuse le rieuse che sono le ragazze che ridono questa è la petite rieuse la piccola ridanciana sicuramente pensa allo sfumato leonardesco pensa come riuscire a restituire in scultura la morbidezza appunto dei passaggi di luce ma pensa anche ai frammenti del mondo antico d'altra parte sta sorgendo l'astro di Rodin Rodin che con le sue opere ricordate una mano oppure un torso senza braccia fa capire fa capire che i frammenti di arte antica non devono essere restaurati non bisogna mettere di nuovo le braccia alla venere di Milo ma è proprio il frammento quello che ci fa sognare che ci fa sentire la forza dell'incompletezza ed ecco allora appunto che stimolato anche da Rodin Rosso continua su questa strada poi ne è nata ahimè una bagarre come succede tra artisti e non solo tra artisti Medardo scrisse di essere stato di essere stato offeso e messo da parte dalla gigioneria di di Rodin Medardo d'altra parte con la ripicca degli italiani offesi nel loro orgoglio diceva sono io che ho inventato questo tipo di scultura questa scultura a frammenti Rodin non è altro che un trombone parruccone e i due se ne dicono un po' di tutti i colori naturalmente avrà la meglio per certi aspetti Rodin anche perché non solo perché francese ma anche perché di carattere tutto sommato più docile e poi perché è più pronto ad affrontare dei soggetti pensate alla porta dell'inferno al famoso pensatore di ispirazione michelangelesca invece il nostro Medardo fa la grande rieuse probabilmente madame la sale e guardate qui lascia proprio Laura quello che oggi chiameremmo il karma intorno alla figura come se intorno alla figura restasse l'aria che le si muove intorno e questo direi è la grande forza del nostro la stessa signora che vedete qui viene rappresentata da Degas in quegli anni in questo modo e questo è l'enfant juif il bambino ebreo in alcune testine ripeto alcuni ritengono si tratti di un bambino dei Rothschild altri negano non ci sono documenti però resta secondo me questa idea proprio del rapporto tra la materia e i polpastrelli dell'articolo artista come se la vita potesse essere trasmessa modellando plasmando e non togliendo la materia come avevano fatto invece gli scultori in marmo poi la cera evidentemente ve l'ho detto non solo è collegata al mondo animale ma è collegata alle maschere funerarie quindi anche a quel bisogno di avvicinarsi alla alla continuità al di là della vita al di là della morte ma non la continuità rigida della tomba piuttosto appunto la verità dei tratti somatici eccolo qui un'altra versione eccoli qui appunto con queste bocche avoragine sappiamo che frequenta i caffè di Toulouse Lautrec quindi diventa un frequentatore del famoso Moulin Rouge tanto che qui vi faccio vedere il manifesto del famoso gatto nero Le Chanoir uno dei locali più celebri di Montmartre qui il locale era stato fondato dallo svizzero Rodolfo Salis e era uno dei locali di Montmartre tra il Moulin della Galette e il Moulin Rouge frequentati appunto da Medardo Rosso che vi dicevo si sposta nella città quindi Passage Marie Blanche poi Batignolle e poi diversi altre adresse e in questi locali conosce la famosa Yvette Gilbert Yvette Gilbert è stata la cantante che ha ispirato Toulouse Lautrec Ricorderete ricorderete sicuramente le immagini che ne dà Henri magrissima soffriva di tubercolosi copriva la scarsa avvenenza delle sue braccia secche dall'ocusta con dei lunghi guanti neri che le arrivavano fino a metà dell'avambraccio Yvette cantante popolare che si fa strada direi veramente a calci e pugni in questo ambiente difficile dei caffè di Montmartre anche Medardo Rosso l'ha rappresentata in un'opera rara e meno famosa che è questa che vedete qui con questa inclinazione della testa quasi appunto a immortalare questo questo momento questo vezzo e attenzione anche al progressivo disparire dei tratti è come se man mano non fosse nemmeno più necessario scavare gli occhi nemmeno far vedere la bocca è la materia che diventa luce si consuma e in qualche modo ridà vita al personaggio famosissimo Ecce Puer fatto per degli inglesi che si chiamavano Mond Medardo va in Inghilterra agli inizi del novecento siamo ormai abbiamo ormai varcato il secolo e usa il bambino di questa famiglia Mond per come modello per questo Ecce Puer che vedrete in diverse versioni al GAM Ecce Puer che ha evidentemente un significato evangelico ecco il bambino ma Medardo arriva sempre di più a lavorare con la materia con un principio quasi astratto basta avere la memoria dell'immagine e poi l'immagine si consuma nella luce d'altra parte gli inglesi amano Medardo rosso e sicuramente anche Medardo viene amato e ispirato dalla prosa di Walter Peter ecco qui ne vedete e guardate queste gocce quasi come se fossero delle dei fili d'acqua che cadono da una grondaia guardate lì bene perché poi mi consentiranno di fare un confronto con cui tra breve chiuderemo l'incontro allora questa è una delle più famose opere di Medardo anche perché io ce l'ho spesso sotto gli occhi perché ce n'è una versione alla Pinacoteca di Brera è nella collezione Iesi vi ho detto che Medardo ebbe contatto con i Rothschild quindi ebbe un buon supporto dai committenti ebraici e gli Iesi comprarono le opere di Medardo alcune opere di Medardo che sono appunto nella Pinacoteca di Brera questa rappresentazione questa cera ripeto dietro c'è una una culla è il caso di dire di gesso e sopra c'è questa cera modellata rapidamente si chiama la femme alla voilette è una ragazza che si è appuntata la veletta sul copricapo sul cappello e che sta presumibilmente attraversando un boulevard padigino e ancora una volta non è ritagliata sul fondo ma è come se con lei vibrasse l'aria dei boulevard come se noi ce la ricordassimo così con dietro l'aria di Parigi che si sposta insieme a lei c'è un famosissimo sonetto di Baudelaire intitolato a una passante e Baudelaire che lo sapete è stato definito l'inventore della modernità dice non so di che colore hai gli occhi non potrei ridisegnare il tuo volto ma so quale percezione quale emozione ho avuto quando tu sei passata o tu che avrei potuto amare o tu che lo sapevi ed è uno dei più celebri sonetti delle fleurs du mal e veramente la fama alla voilette fa pensare a questo a une passante di Baudelaire guardatene i dettagli vedete l'emozione di una forma che non si sa se viene riassorbita o se sta nascendo ed è proprio questa ecco la famosa veletta appuntata e allora ve la confronto con la veletta di una di una allumeuse celeberrima allumeuse in francese sono le donne che sanno accendere i cuori allume vuol dire accendere allumeuse appunto è una donna che sa accendere gli sguardi e di conseguenza i cuori questa signora si chiamava Misia ed aveva sposato il direttore della Revue Blanche Tadde Nathanson allora Henri de Toulouse Lautrec rappresenta Misia con la sua voilette moucher cioè con la voilette con le moschine fatte con questi ptipuadi di stoffa mentre corre come vedete nei boulevard donne con la veletta fascino della veletta e arriviamo al grande capolavoro che è in mostra alla GAM quello che viene come vi dicevo da Capesaro dalla galleria d'arte moderna di Venezia e si chiama suggestivamente Madame X secondo Giovanni Lista che è l'autore di numerose opere su Medardo Rosso si sarebbe trattato della moglie di Dolores Prezzolini ma anche qui non tutti sono d'accordo siamo ormai nel 1910 e questa testa è purissima perché a farci capire che si tratta di un volto c'è solo questo piccolissimo aggetto del naso eppure vi assicuro che c'è questo senso di una presenza assenza come vi dicevo evocata come se venisse dal mondo delle ombre stesse per ritornarci ed è per i fotografi un giulebbe perché vedete ci sono appunto queste forme adesso qui è un po' turbata da questi raggi ma è straordinaria guardatene il profilo e poi appunto l'andrete a vedere in mostra c'è da una parte tutta questa parte ruvida e poi appunto questo volto veramente appena accennato a questa a questo punto il confronto è d'obbligo perché pochi anni dopo Costantin Brancugi fa questa famosa musa addormi la musa addormentata il principio questa volta è quasi di ricostruzione laddove in Madame X c'è questo senso di una materia che si discioglie Brancugi invece ricompone in una forma pura quasi un nuovo iniziale della vita il volto perfetto di Lian de Pugy anche qui il rissoso Medardo Rosso disse no l'ho inventata io sono stata io a fare Madame X prima di Brancugi in questo modo io credo simpatico e tenero in fondo si sia un po' rovinato la fama perché questa voglia di rivendicare quella che probabilmente era effettivamente la sua prima zia lo rese poi difficile effettivamente il suo recupero comunque è vero che l'ultimo Medardo è un Medardo che apre la strada alla scultura moderna proprio non più la scultura birillo come si dice per le statue che stanno in mezzo alle piazze intorno a cui si gira inevitabilmente come se fossero degli sparti traffico ma appunto una scultura da da sentire e da vedere quasi appunto come una percezione pittorica e così non si può non parlare di Giacometti che in questi due disegni ma anche nelle sue famose sculture riprende l'idea di un della figura come un grumo di luce quindi come se in realtà l'uomo fosse appunto per quel breve tempo che gli è dato per la vita un grumo di luce che è anche energia e non a caso le figure di Giacometti sembrano Euridice quando Orfeo si volta improvvidamente e vede Euridice mangiata dalle tenebre ma c'è stato un riscatto anche per l'ultimo Medardo quando Medardo è ormai vecchiotto e sempre più irsuto dal carattere sempre più puntuto i futuristi si accorgono di Medardo e in particolare Medardo avrà un grande amico che era Carlo Carrà che scriverà su di lui e che appunto dirà il genio italiano Medardo quello che non ha avuto i giusti riconoscimenti ma che ha portato l'Italia a trionfare a Parigi i futuristi lo amano molto se ricordate quel Lecce Puer che vi ho fatto vedere con quella catinelle d'acqua che cadevano sopra il volto del bambino qui trovate una parte degli addii di Boccioni che fanno parte del trittico questi sono coloro che restano sono rappresentati da Boccioni come delle figure che sembrano andare in un mondo dell'aldilà negli inferi e questa maligna pioggia verde che cade dall'alto li inchioda a terra perché sono loro che restano mentre gli altri vanno e infine infine volevo farvi vedere come ci sia questo ritorno in fondo nell'arte ad alcuni elementi che sono stati nella grande storia quando l'arte è geniale e magica il vecchio Rembrandt due secoli prima in uno dei suoi ultimi quadri rappresenta il figlio al prodigo e guardate come le mani del padre e la testa del figlio al prodigo sembrano di nuovo sciogliersi nella luce e Rembrandt vi fa vedere questi piccoli tocchi di luce per darvi la sensazione del pizzo vi dà questo rosso che viene divorato dal fondo scuro insomma c'è questo senso della materia e della luce e Medardo due secoli dopo ci avrebbe ancora riflettuto grazie grazie ancora tanto e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti